La visita di Papa Francesco ha riempito la città di Pellegrini, i turisti sold out, negli alberghi e anche tutte le attività hanno lavorato bene per tutta questa settimana della perdonanza specialmente. Dati ufficiali di questa settimana non sono ancora disponibili ma breve il Comune di Certoli presenterà. Passati l'emozione e il grandissimo sforzo organizzativo che è stato enorme, è anche tempo di ragionamenti per programmare il futuro e far sì che la visita di Francesco e anche le sue parole su Celestino, che azzerano secoli di polemiche, possano far fare alla perdonanza e al suo messaggio un salto di qualità vero. Questo perché il Pontefice ha incoronato la città, capitale di perdono, pace e riconciliazione, immondovisione e per usare parole specifiche del marketing la città ha un brand riconoscibile e il PIL della regione potrà cambiare veramente se si saprà sfruttare dopo questa visita epocale la situazione. Insomma per far sì che questo non vada perduto bisogna investire in progetti, marketing e territoriale, migliorando l'offerta e anche le strutture ricettive. La città dal canto suo ha dimostrato di saper accogliere, di essere pronta anche per un evento di portata mondiale, gestito in maniera impeccabile e dunque la palla passa che amministri a tutti gli operatori del settore affinché tutto questo si possa tradurre anche in un ritorno pure economico che è altrettanto importante. Sicuramente è stata una settimana molto molto intensa, sia sotto il punto di vista alberghiero che a livello di pubblici del settore, quindi ristoranti, bar. La città era piena di gente, Fabri Fibra, lo spettacolo iniziale di apertura della perdonanza, il corteo e poi il Papa che non ha bisogno di commenti. È una visita epocale e non può fare che bene, benissimo a questa città lanciando questo bread come l'Aquila, città del perdono. Ad oggi non è che possiamo fare previsioni precise perché le incognite sono tante. In ogni caso apprezziamo tantissimo il fatto che il Santo Padre sia venuto a visitare e aprire la Porta Santa all'Aquila valorizzando quello che è la perdonanza celestiniana. Portiamo avanti questo nome, allarghiamo l'evento, miglioriamolo e cresciamo culturalmente. È importantissimo.